giatteo la tv no ma deve che quando può posto no 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 raga ma è pieno io ero raga ma cos'è io un tempo ecco sono la stessa cosa di uno no sono sono due 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 sono la stessa nella città no ma giovani devi scendere ma non c'è nessuno qua da noi si invece c'è pure uno scar blu si è iniziato io te la trova di gol leggendario ma lei è epica ma che dovessi usare eh niente io c'ho tovo uno contro i pump e vabbè mi sembra giusto e io la salto col milino eh si eh si eh si eh si giusto spini piano per non far rumore l'unico ma non resta l'infermio il 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 si che lo voglio con tutti i colpi ahahah ahahah cos'è chi è preso quello? vai via vai via ah ma è un player si ma io del resto non c'ho niente però ah ma Giovanni c'ho due di vita nico c'è del luce vai via vai ci sono due bananite e banana di merda beh questo non lo lascio qua 70? 60? lì se magari venissi che io non c'ho niente arrivo ma tu devi aspettare io c'è wow morto uno è partito con la digola no no aspetta andato l'amico sono scemo dove sono? morto? qui dove sono? sono qua da me eh lì dentro aspettare che noi prendiamo la sospedizione è qua ah ma ha busciato vai spaccagli il muro oh eh ho preso un quadro di danno a me 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 ok 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 ciao no no ho il gioco ne ho uno 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 espiri piano per non far rumore di addormenti di sera come ragazzi dall'altra parte ok però comunque manca l'appello al loro il loro bloschia eh lo so dovevamo campionare la scheda e potermi morire poi l'ho 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 ragazzi comunque ho fatto ho fatto una piccola di go oh daniele mi da 10 euro se lo ha platino 1 beh addirittura via la platino 1 un po' difficile mi da dello scao oh ragazzi lo tieni qua ma grazie brother qua sono scelta 53 dove era il tipo che era morto prima che aveva lasciato lo scao con un botto 55 bianco arriva arriva l'altro 53 non ci credo ragazzo sono è quello di prima no come ho fatto morire da qua è impossibile dai vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni sono morto sono morto per un anno da caduta inesistente i bug di fortnite ne trovati colpi ho la bananita le bananite sono state interessate colpi cosa ed è ed è lì io no no ci sono le altre ma oh 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 i brodeli desertico lo chiamavano vieni ciò vieni qua ho vieni qua poi tanto qua e ma lì comunque player no gioi vieni da noi stiamo andando pusciare no e poi ci spuglietti tipo la a destra ecco il testo e le botte nicovai provo preso risolto c'è spuglio oh oh calma calma brodezzi oddio mi vanno allagerato ma ce n'è uno qua ma vaffanculo come ne vado ero troppo uguale ragazzi sono qua vado via vado via eh ragazzi però mi lasciate sempre solo è incredibile eh me ne sono dovuto andare guarda io sempre io rimango da solo ti sta aspettando belli colpi giù Nicola sta provando non si tradisce al brodez Nicola non mi aspetta ma che è io non ho paura di me Nicola si impara ma che è io non ho paura di me Nicola si impara ma vai 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 che sono le frega ragazzi non so dove dove le doveri dove le doveri non si tranne i colpi tranne i colpi gioco ecco l'altro è incredibile la ricetta esplome infatti ok no scusami ritornando per un conto porca vacca non lo trovo rift io c'è bisogno necessariamente io ho bisogno di colpi di tutto cioè non so se hai capito che c'è delle cure che mi hanno sancarato non c'è niente giovanni cosa vuoi da me io ho delle scinti sai che la vedo male sapinare no non sa che se lo guarda la tempesta che bello per il solito per le cd e non ci credo c'è un player con la macchina ok sono andato sono andato raga 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 finite questo è un bordo oh elisa è praticamente la mia stessa vita raga io c'ho quattro porti colpi pompa quattro colpi pompa no non ci credo raga colpi pompa ne avete no giovanni che muore vai via colpi pompa ne avete si adesso ti do eh c'è il player sotto eh guarda la mia vita nicolas è vero cavolo si deriva ho uno di vita c'è l'offer porti mi fa danno è lì dentro comunque per favore mi può dare colpi pompa no 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 non ti voglio non ti voglio vai via no sbagliando no raga io direi avete lampino agnala sopra raga io c'ho 5 4 di vita io uno no 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 giovi prova a buildare prova a buildare ho uno di vita eh non ho cure da darti giovi ci sei cosa seguici stiamo andando a non mi ricordo come si chiama l'italiano che ho il gioco in inglese ah ma io lì da borghi niente di vita io lì abbiamo tanta vita eh eh dai qualcosa qua vedo se trovo qualcosa qua non l'ho di buono però se venite da me eh c'è il rift raga ragazzo eh eh queste venite sotto venite sotto venite sotto veloci 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 giovi ho che non prendere rift ho che non prendere rift no vabbè ma doveva prenderlo si però ce l'ho vabbè aveva le sciocche ti stavo spettando c'è volevo le sciocche per prendere un po' di vita lì player anche lì giusto no lì c'è gente sopra raga andiamo qua non c'è nessuno andiamo qua che non c'è nessuno e no c'è gente no no dove ha pingato e lì no raga io non ci arrivo non posso dobbiamo andare dove ha pingato e lì colpimitra ne vede cecco oddio no arrivo con rampino ecco come l'ho detto è morto raga è morto da dietro raga è da dietro da dietro ok bravo che la foto è bianco è bianco è bianco non ci credo mi devo prendere in testa c'è uno qua davanti dico ci sembra giusto con il finistro andiamo insieme per la patria per il popolo per il popolo è morto bravo nico se vai dal malulti nico c'è uno scarso il senso epico no bravo 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 vai fa il giro giovanni non ci dov'è 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 no no giovanni c'è la safe genio fa che non prenda nessun danno ma non ti posso rifiutare cioè non ti posso buttare in questa è impossibile perche' giovanni ha messaggio a quanto? perchè tu già? madonna mia ha messaggio il pan patico per non via beh che Nicola avrebbe fatto troppo no no sai che? ti aveva costitato dietro oddio oddio ho fatto proprio lì ehi lì ma guarda un secondo bello ehi amico non fa la kill oh god non fa la kill no 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 sono in panico eh mi ha problemi mi sei lì eh quello c'è il cieco perfetto c'è la destra ce ne sono una destra eccolo guardalo 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 quel cieco eccolo dici che mi prenda cosi? no prova 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 ehi porca di quello fa pusha è morto si bello testa ti è morto Nico con la sigle è morto ti è capo così stai giù con la testa Nico la testa via coppiti no unito sono morto unito sono morto e sopra aspettate scendete gioco la destra e più alto sulla destra e la destra e tutte le altre di fra no no bastardo dai che fai tenete la lunga? devi attento coprire sopra ciao non 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 nemmeno non 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 mi ha detto raga il bar la corona della barra è proprio preso sui gol se neanche il bar ok va dietro vai nico vai 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 non ci credo è la dentro dov'è? la mano è richiesta va, no lì sotto attento, apriti sarò lì con sei di vita con sei di vita oddio con sei di vita il proresce comunque a portarci alla casa non ci credo ma che ca** sono mica abbiamo fatto sab addio raga il game più assurdo abbia mai fatto non si sa che brei e io che dico nicolas ma dai no ragazzi è trovata la di gol sapere chi darlo post da 1 a 10 quanti ti premano le mani ma io avrò 10